Diceva giustamente che avete parlato anche di Bagnoli, ha avuto, visto che nel commissario non decade con il cambio del governo, ma ha avuto la sensazione che si andrà avanti con questo assetto commissario, oppure se si potrebbe anche cambiare? Vivo di sensazioni ma vivo di amore per questa città, quindi vediamo che cosa decido, non ne parleremo sicuramente, ci aggiorneremo su Bagnoli, voi lo sapete come me che c'è il commissario scade i primi di settembre, quindi noi abbiamo sottolineato l'importanza strategica dell'accordo, questo è il tema che interessa la città di Napoli, il resto lo lasciamo al governo e alle sue prerogative, quindi noi abbiamo mantenuto la nostra posizione che è stata sempre molto netta e molto chiara, però su questo ci ritorneremo sicuramente in altri incontri che faremo nelle prossime settimane, perché credo che ci rivedremo a breve, ma anche con altri, perché poi sono altri ministri con i quali dobbiamo necessariamente interloquire, ci sono interlocuzioni importanti che bisogna fare con il Viminale, interlocuzioni importanti con il ministro per il Sud, delle infrastrutture, insomma noi ci siamo messi subito a disposizione per lavorare insieme. Questo è un punto, in fondo il governo non ha ancora deciso per esempio chi guiderà la prossima cabina di regia come deve, quindi sa, ancora non vi è... Ci sono due temi, uno che il governo deve decidere se continuare col commissariamento e se continuare con chi continuare, ma queste sono scelte del governo, sapete come la pensiamo noi sul commissariamento.